Come facciamo? Neanche la neve ferma la marcia delle donne in Abruzzo, 35 chilometri a piedi da Capotosto all'Aquila per protestare contro una ricostruzione inesistente. Domenica la partenza tra i primi fiocchi di neve per arrivare questo lunedì all'Aquila. I nostri paesi stanno morendo. Noi come donne, così come la storia ci ha insegnato, non possiamo demordere, non possiamo lasciare che tutti i nostri sacrifici, che i nostri figli non abbiano più le comunità dove sono nati, dove sono cresciuti, dove noi siamo nate, dove siamo cresciute. Questi territori sono stati colpiti prima dalla scossa dell'Aquila del 2009 e poi dalla sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso del 2016-2017 che ha trasformato in paesi fantasma luoghi una volta famosi per la villeggiatura. Grazie. Grazie. Grazie.